Il destro di Fabiani e palla in rete! Una rete spettacolare di Fabiani! Il destro di collo pieno dal limite dell'area e palla che si insacca battendo sull'incrocio dei pali e entrando in porta. Nulla ha potuto Koyan e il risultato che si stabilisce sul 2-2. Da una rimessa laterale il pallone è raggiunto al numero 10 Granata Fabiani.